Buon martedì amici di Bet Italia Web, buon pomeriggio, buonasera appassionati degli sport americani, io sono Gure e siamo sempre in vostra compagnia per parlare un po' di tutti gli sport USA, allora oggi parleremo di NHL, vi darò subito due free pick, parleremo di college basket, anche qui vi darò una giocata, parleremo ovviamente di NBA, ci sono quattro partiti in programma, le analizzeremo tutte e quattro nel dettaglio, vi darò diversi spunti per le scommesse, qui non c'è ancora la free pick che uscirà nel tardo pomeriggio in prima serata nel canale Telegram gratuito Il Presidente Sport USA, trovate il link qui sotto, iscrivetevi, se invece volete supportare il nostro lavoro quotidiano e ricevere tutte le giocate ogni giorno su tutti gli sport USA da tutti i nostri tipster, contattateci per entrare nel canale VIP, parleremo poi anche di NFL perché come ogni martedì andremo a vedere le partite che ci aspettano per la week 15, io però inizierei proprio dal college basket perché ieri siamo andati in cassa con Iowa, nel canale VIP avevamo consigliato la vittoria con meno 4,5 punti di handicap degli Okais in casa contro Minnesota, gli Okais hanno vinto di 20, quindi è entrata senza problemi. Oggi ci sono molte più sfide interessanti, vi dico subito la mia free pick St. John's Redstone contro Brown Beers, Redstone meno 12,5 a 1,90 Allora, Brown arriva da una sconfitta quasi di 20 a Stony Brook, non vedo perché potrebbero perdere con un altrettanto scarto anche a St. John's contro l'ottimo programma dei Redstone che ha iniziato la stagione con un record di 8-2, 4 vittorie di fila con un 3-1 ATS compresa l'ultima contro un avversario importante come West Virginia. Brown non ha mai coperto un handicap nelle ultime 6 partite fuori casa, non credo che lo farà oggi alla carne secca arena, si si chiama proprio così, carne secca arena, la casa dei Redstone, andiamo con Redstone meno 12,5. Diciamo due cose veloci anche sui big match di oggi, senza dubbio il big match più atteso è quello che chiude la serata, ovvero Baylor-Beers contro Butler-Baldog, Baylor è undicesima nel ranking nazionale, Butler è diciannovesima, oggi Baylor è favorita con meno 4,5 punti di handicap, ma attenzione perché Butler non ha ne ancora perso in stagione, 9 vittorie su 9 con margine medio più 15,2 punti. L'altro big match è senza dubbio Louisville Cardinals contro Texas Tech Red Riders, ovvero Louisville, prima squadra della nazione, reduce da un'impressionante vittoria su Michigan State contro Texas Tech, finalista lo scorso anno. Le squadre si sfidano al Jimmy Classic sul neutro di New York, del Madison Square Garden, che altro dirvi. I Red Riders avevano vinto le prime 5 partite stagionali con più 27,2 punti di margine medio, prima che il calendario si complicasse per Davide Moretti e compagni che hanno perso le ultime 3 partite senza mai coprire l'handicap. Altre partite interessanti, Penn State, Nittany Lions, Maryland Therapies. I Nittany Lions sono imbattuti in casa, 5 vittorie su 5 con un 4-1 ATS, ma oggi sfidano Maryland, quarta miglior squadra del ranking nazionale, 10 vittorie su 10, margine medio superiore ai 17 punti. Nonostante questo però Maryland è sì favorita, ma con un solo punto di handicap per una trasferta a Penn State mai semplice. Passiamo a Kansas City, J-Oaks, Wisconsin, Milwaukee Panthers. I J-Oaks sono terzi nel ranking nazionale, arrivano da una bella vittoria in Colorado, hanno vinto 5 partite su 5 in casa, margine medio leggermente sotto i 20 punti, oggi devono coprire 26 punti di handicap contro i Panthers. Andiamo con un'altra partita del Madison Square Garden, campo neutro, con Netticat Askis contro Indiana Osiers, sono due programmi fuori dalla top 25, ma sono anche due dei programmi più interessanti fuori dalla top 25 del ranking nazionale. Indiana ha un record di 8-1, anche se arriva dalla prima sconfitta dell'anno, ha perso di 20 in Wisconsin, una sconfitta che ci stava. Dall'altra parte gli Askis arrivano da 3 vittorie di fila con un margine medio di 22,3 punti, hanno sempre coperto l'handicap nelle ultime 6 partite, nonostante questo oggi con Netticat che è sfavorita con più 3 punti di handicap. Andiamo in Colorado dove i Buffaloes ospitano, Northern Iowa Panthers, Buffalo 23esima, oggi richiesta una partita, una vittoria in doppia cifra, meno 9,5 punti di handicap. Anche perché Colorado in casa non ha mai perso, rientra la sconfitta contro Kansas, qui i Buffaloes concedono poco più di 57 punti di media, Northern Iowa in trasferta ne segna meno di 60. E chiudiamo con Davidson Wildcats contro Copping State Eagles, voglio chiudere con la nostra, tra parentesi, Copping State, seconda miglior squadra della nazione come rendimento nelle scommesse, 9-1 ATS, oggi trasferta difficile contro i Wildcats che in casa hanno vinto le prime due uscite, coprendo sempre l'handicap, anche se in totale Davidson è 3-6 ATS in questa stagione. Chissà se Copping State coprirà un altro handicap, il decimo su 11, oggi è appoggiata da più 17,5 punti di handicap. E passiamo all'NHL, ieri 4 partite, 4 underdog vincenti, noi abbiamo pagato i Lightning che avevano giocato vincenti e sono stati travolti 5-1 in casa dagli Highlander, ma anche gli Avalanche hanno perso in casa concedendo 5 gol all'attacco dei Flames, siamo andati in cassa a Washington con Lover, però anche qui il risultato è sorpreso, i Blue Jackets hanno vinto 5-2 contro i Capitals e infine anche ad Ottawa, non sono mancate le sorprese, 5-2 dei Senators contro i Bruins. Oggi sono in programma ben 12 partite, ho tante idee, ne ho 3 per il canale VIP ma ve ne do 2 anche qui in Freepeak. Mi concentro proprio su queste due, la prima è Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens, nonostante le assenze tra cui Crosby, i Penguins continuano a vincere, ne hanno vinte 6 delle ultime 8 anche grazie a un Tristan Garry che in porta sta scalzando Matt Murray, Garry arriva da un doppio shootout, 61 parate totali, sta concedendo solo 1,81 gol di media e dall'altra parte i Canadiens arrivano da una vittoria per 2-1 a New York ma l'attacco sta faticando, nelle ultime settimane Montreal è stata tra le peggiori squadre NHL in power play. Consiglio un'altra vittoria di Pittsburgh a 1,65 considerando anche che i Canadiens domani rientrano in casa contro i Senators in una sfida più alla portata. L'altra Freepeak che vi do è su Minnesota Wild Anaheim Ducks, consiglio over 5,5-2,10 giocata di valore, qui come ho scritto anche nell'articolo e sul nostro sito betitaliaweb.it trovate le analisi di tutte le altre partite con diversi spunti per le scommesse, comunque l'ho scritto anche nell'articolo, qui potrebbe cascare l'asino, speriamo che l'asino sia il buco e non sia io, ma comunque ritengo assolutamente di valore questo over sulla linea di 5,5 gol, molto influenzata dai Ducks che sono una squadra da Anders e ce n'è una. Però attenzione perché Gibson e i compagni in trasferta concedono comunque quasi 3,3 gol di media, non per niente hanno segnato 6 over nelle ultime 8 partite fuori casa e soprattutto i Wild, da quando non c'è più il portiere titolare da Evan Dabnik, sono la terza squadra che concede più gol. Minnesota arriva dalla sconfitta per 6,2 in Carolina, questa squadra in casa concede 3,55 gol di media, anche se ne segna tanti, 3,7, inoltre non ci dovrebbe essere nemmeno Stalo Coggi tra i pali, ma il rookie capo Kakkonen, 23enne che ha giocato solo due partite in NHL e magari contro di lui anche l'anemico attacco di Hanaheim potrebbe combinare qualcosa, quindi over 5,5 a 2,10 nella sfida tra Minnesota Wild e Hanaheim Ducks è assolutamente da provare, come da provare un'altra vittoria dei Penguins a 1,65 in casa contro i Canadiens, come detto ho altre 3 belle giocate, tutte intorno a 2 di quota media per il canale VIP oggi. E passiamo all'NBA, qui invece abbiamo solo 4 partite, nessuna free pick al momento anche se ho già un'idea ed è proprio su Charlotte Hornets Washington Wizard, non la confermo ancora però vi do già un spunto e lo darò alla fine. Allora intanto diciamo che Charlotte è 1-4 nelle ultime 5 partite, oggi in dubbio il rookie PJ Washington, dall'altra parte Wizard arriva a 2 sconfitte e Washington è una squadra che segna tanto, 118,2 punti di media ma è anche quella che ne concede di più, 122,5 punti subiti ogni sera. Il 22 novembre scorso Washington ha vinto contro Charlotte, 30 punti e 12 assist del solito Bradley Bill, io però farei attenzione a Devonte Graham, giocatore di riferimento nell'attacco di Charlotte, è vero che arriva da una prova un po' sotto le sue recenti medie però sulla linea di 27,5 punti più assist io ci farei un pensierino perché se dobbiamo giocare una pro bet sui punti e gli assist facciamolo contro la peggior difesa NBA ovvero quella dei Wizard e se dobbiamo giocare su un giocatore facciamola giocata su quello che sta andando un po' meglio nella situazione un po' complicata degli Hornets. Quindi attenzione a Graham, magari la confermeremo o meno nel nostro canale, il presidente Sportusa collegatevi tramite il link che trovate qua sotto e dove troverete anche il sondaggio del giorno che è tra Philadelphia, 76er, Denver, Nuggets e il big match di NBA, i 76er cercano di rimantenere l'imbattibilità interna, 12 vittorie su 12 più 13,2 punti di margine medio tra le Muramiche, qui di recente hanno perso anche i Raptors, vi segnalo che Josh Richardson salterà la settima partita consecutiva. Arrivano però i Nuggets oggi reduci da due sconfitte in trasferta a Est anche se l'8 novembre al Pepsi Center vinsero 100 a 97 contro i 76er grazie a un ultimo quarto dominante da 35 a 13. In quella partita ci furono 197 punti totali, anche oggi linea over-under molto bassa, 205,5 ma c'è anche un perché. Philadelphia in casa concede meno di 99 punti di media, Denver è una squadra difensiva, lo sappiamo tutti, concede meno di 102 punti di media stagionale. Inoltre 76er e Nuggets sono under 3-1-1 negli ultimi 5 precedenti. Passiamo a Miami Heat, Atlanta Hawks, anche gli Heat sono un'altra squadra ancora imbattuta in casa, 10 vittorie su 10, 8-2 ATS nelle scommesse, margine medio vicino ai 16 punti. Miami ha vinto 4 delle ultime 5 partite, arco di tempo in cui Jimmy Butler ha guidato i suoi con 26 punti, 8,6 rimbalzi e 7,2 assist di media. Il tutto senza Justice Wieselon e Goran Dragic che rimangono out, oggi è in forse anche Bam Adebayo. Adebayo ha segnato 22,5 punti e 13,5 rimbalzi di media nelle ultime due prestazioni. Oggi arrivano gli Hawks, reduci dalla vittoria a Charlotte dove si è rivisto in campo Kevin Werther, ovviamente qui il giocatore di riferimento rimane Try Young, quarto miglior marcatore NBA, si sta avvicinando ai 29 punti di media ed è anche il quinto miglior assist man, 8,4 a sera. Due sfide ad ottobre per Miami e Atlanta, le ha vinte entrambe Miami anche con un 2-0 ATS nelle scommesse. Chiudiamo a Portland, Trailblazers contro Knicks, i Blazers arrivano da due sconfitte consecutive, tra cui quella interna contro KC due giorni fa, noi avevamo giocato su Portland, sconfitta deludente, 4 su 18 al tiro per Carmelo Anthony che oggi torna a incontrare la sua vecchia squadra in X, record di 1-9 in trasferta quest'anno, 9 sconfitte consecutive, questa è la seconda partita con l'Inter in coach Mike Miller dopo l'esonero di Fitzdale. Va detto che almeno contro i Pacers i miei Knicks hanno tirato un po' fuori le palle, hanno perso ma solo di uno, sono arrivati 25 punti di Marcus Morris, oggi rimane out Ellington. Vi dico anche che Portland ha vinto 5 partite di fila contro i Knicks, anche a livello scommesse i Knicks vanno male, sono 2-5 ATS negli ultimi viaggi al Moda Center. Come detto attenzione a Graham nelle probette e per la free pick canale Telegram, ora brevissima pausa poi chiudiamo con l'anteprima della week 15 di NFL. E andiamo a chiudere con l'NFL, ieri 1-1, avevo giocato over primo tempo nel Monday Night tra Philadelphia e New York Giants, over 22 e mezzo nel primo tempo, i Giants hanno fatto il loro perché hanno segnato 17 punti, tra l'altro il ritorno in cabina di regia per Eli Manning, mi sono mancati gli Eagles, gli Eagles hanno segnato solo 3 punti nel primo tempo, poi hanno ribaltato la situazione nel secondo e hanno vinto in overtime 23-17. Nel canale VIP però avevo consigliato, caldamente consigliato, avevo anche consigliato 2 unità nel caso, l'over di Carson Wentz, over 248,5 yard sul lancio che contro la pessima difesa dei Giants, mi sembravano un cioccolatino regalo solo da scartare, anzi neanche da scartare, solo da ingoiare. Wentz arrivava da una prova da oltre 300 yard contro Miami, i G-Man in trasferta concedono più di 30 punti di media e più di 400 yard e ieri Wentz è andato over senza problemi. Andiamo però a vedere cosa ci aspetta per la week 15 perché siamo agli sgoccioli della regular season, la settimana si aprirà come sempre col Tour's Day Night, si gioca a Baltimore, arrivano i Jets. Baltimore è la maggior favorita di questa settimana, meno 15 punti di handicap in casa contro i Jets che hanno un record di 1-5 in trasferta anche se la squadra di New York è in ripresa, ha vinto 4 delle ultime 5 partite, è vero, ha sfidato avversari modesti, si è svegliata troppo tardi, però 15 punti da coprire sono sempre 15 punti da coprire anche per Lamar Jackson e Sochi. Passiamo alle sfide di domenica, Dallas Cowboys e Los Angeles Rams, Dallas è reduce da 3 sconfitte di fila, la situazione non è semplice, Prescott ha un problema alla mano e quando il tuo quarterback titolare ha un problema alla mano non è una bella situazione, nonostante questo Dallas è favorita con un punto di handicap in casa contro i Rams, Rams che arrivano da una grande vittoria contro Seattle. Sempre domenica Tennessee Titans, Houston Texans sfida al vertice di AFC South, queste sono due squadre che hanno entrambe un record di 8-5 quindi questa sarà una partita determinante, Tennessee la gioca in casa ed è favorita con meno 3 punti di handicap. Houston arriva dalla sconfitta interna contro Denver mentre i Titans sono passati alla grande anche a Oakland, quarta vittoria di fila, sesto successo nelle ultime 7 partite con anche un 6-1 ATS nelle scommesse per i Titans che hanno davvero cambiato passo. Passiamo a Green Bay Bakers, Chicago Beers, Green Bay ha vinto faticando più del previsto contro Washington, Rogers e compagni hanno vinto 20-15, rimangono al comando della NFC Nord dove invece Chicago è al terzo posto, anche se i Beers arrivano da 3 vittorie di fila e rimangono vivi. Lo scorso settembre a Chicago i Beers persero una partita a bassissimo punteggio vinta dai Pakers per 10-3. E andiamo al Sunday Night che si giocherà a Pittsburgh tra le due squadre rivelazioni di questa stagione, Steelers contro Bills, gli Steelers sono favoriti con meno 1,5 punti di handicap, micro quota over under 36,5 punti appena. Pittsburgh ha vinto 6 delle ultime 7 partite, la grande sorpresa di questa stagione è giocata senza Big Ben e dopo i saluti di Bell e di Brown, anche Buffalo rimane una bella sorpresa in questa stagione, è una contender per i playoff anche se i Beers arrivano da una sconfitta interna contro Baltimore. vediamo infine il Monday Night, al momento non ci sono ancora le linee disponibili per quanto riguarda New Orleans Saints, India Napoli, Scolz, i Saints dopo 3 vittorie hanno perso una sfida davvero spettacolare contro San Francisco, hanno perso 46 a 48 in casa, Indy invece raduce da 3 sconfitte di fila in un'altra stagione depressiva, tanti giocatori assenti, quindi poco da dire, vedremo quando usciranno le linee, che cosa farne di questo Monday Night. Io vi ringrazio anche oggi per l'attenzione, vi auguro una buona serata, fate buone scommesse e puntate sempre con la testa, noi ci sentiamo con tutte le analisi complete sul sito betitaliaweb.it e soprattutto nei nostri canali Telegram. Un saluto, ciao!